Siamo con Matteo Calzia, all'esordio con la prima squadra. Matteo, in questa vittoria sei stato determinante al centrocampo insieme a Di Meri. Come ti sei trovato con la prima squadra? No, bene, col gruppo ci alleniamo da parecchi mesi insieme. Aspettavo da tanto questo momento e niente, sono molto contento. Un giorno importante.